eccomi ragazzi questo video veloce proprio per dirvi che forse già domani cioè che poi è già quasi mezzanotte quindi diciamo alle tre del pomeriggio forse già avrò qua sul primo canale youtube l'unboxing di the evil within per playstation 4 vediamo se riesco a fare questo unboxing stasera sono stato a un torneo di fifa 15 in un paese vicino dove abito dio fa perso i rigori cristo vaffanculo e allora niente ragazzi attenzione perché domani qua sul primo canale youtube daniele magiano angolo dei videogiochi di unboxing di evil within speriamo teniamo le ditte incrociate cristo perso di affan